di mezzo a zurigo classe g qua tra l'altro una bella porsche qua quattro scarichi un'altra bella porsche qua poi qua c'è una brabus bellissima una mercedes brabus edition mamma mia che macchina guarda qua con il logo brabus un'altra porsche qui tante su mazzurino che bella questa è versione brabus poi una bella porsche poi andiamo avanti a vedere poi subito dopo un'altra bella rs 6 poi guarda qua ti faccio vedere qualche macchinina l'altra bella quattro scarichi un'altra bella 4 scarichi amg un'altra bella 4 scarichi sempre amg guarda quattro scarichi qua quattro scarichi qua adesso vi faccio vedere una cosa 4 scarichi qua e 4 scarichi qua poi siamo solo 20 metri più in là ma neanche 10 4 scarichi qua 4 scarichi là poi una bella Range Rover che penso sia quella nuova ha chiaramente 4 scarichi là Range Rover nuova belle macchine poi vediamo poi nuovo classe G Brabus anzi no questo non è Brabus è semplicemente classe G e poi andiamo a vedere le altre macchinine serie 7 che bella poi una bella Porsche di qua e sempre un'altra bella 4 scarichi là bellissime sono nella stessa via Fender qua un'altra Porsche qua no belle macchine poi un'altra bella Brabus qua guarda qua bella Brabus poi una bella Lamborghini in parte un'altra 4 scarichi belle da Ferrarino da Ferrarino classe G qua AMG di là e poi c'era un altro paio di Porsche però vabbè ma come mai scuola a Zurigo naturalmente ha 4 scarichi la scuola guida e là vabbè una classe G tranquilla e qui un Range Rover qui un AMG a 4 scarichi chiaramente che mezzo comunque l'autoscuola a 4 scarichi che classe G mamma mia tra l'altro passa una Porsche però mamma mia che classe G c'è scritto 4x4 mamma mia che cerchi wow un'altra bella Porsche qua una bella Lamborghini qua una classe G qua Brabus tra l'altro versione bellissima bellissima questa qua andiamo avanti abbiamo un'altra come vedo bella Porsche un'altra RS3 bellissima